Il pancione di Giulia Salemi cresce ogni giorno di più. L'influencer italo-persiana sta ricevendo i primi regali per il suo bambino. I fan l'hanno già soprannominato, prelemino. Per il figlio arrivano diversi accessori personalizzati con le dediche a mamma e papà. Giulia Salemi mostra i primi doni per il suo bebè. Giulia Salemi sta vivendo il momento più magico della sua vita. L'influencer italo-persiana è in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli. La coppia si è conosciuta nel 2020 nella casa del grande fratello Vip, e da quel momento in poi non si sono più separati. Nonostante la coppia ha annunciato in più occasioni di aver avuto diversi momenti di crisi, sono riusciti sempre a superarli. Questo è un momento talmente felice per la coppia che i due hanno deciso di mettere su famiglia. L'annuncio della gravidanza è arrivato alcuni mesi fa a sorpreso con uno scatto piuttosto intimo. A partire da quel momento l'influencer non ha più nascosto il suo pancione, e ha continuato a metterlo in evidenza grazie a tubini aderenti e abiti molto eleganti. Il momento del parto si sta avvicinano sempre i più e proprio per questo stanno arrivando i primi regali per il bebè. Inizialmente la coppia formata dall'influencer e dall'ex GFino Pierpaolo, pretelli, non hanno voluto svelare il sesso del bambino. La notizia è stata data in anteprima soltanto durante l'ospitata a Verissimo. La coppia è in dolce attesa di un maschietto e alcuni giorni fa la Salemi ha mostrato alcuni doni che ha ricevuto per il bambino. Tra questi c'è un set di tutine e maglioncini personalizzati. La bellezza assoluta, io al settimo cielo, non vedo l'ora, ha annunciato l'imprenditrice digitale. Le tutine sono decorate con teneri elefantini, maglioncini bon ton con colletto Peter Pan e simpatici pagliecetti con la scritta, adoro mamma e papà, saranno alcuni degli indumenti nell'armadio del figlio dell'influencer italo-persiana. Molto probabilmente la giovane mamma cercherà di trasmettergli la sua passione per la moda.